Viva la scuola! Ippi, ippi! Hurra! Viva la scuola! Ippi, ippi! Hurra! Il volo di 600 palloncini colorati hanno salutato oggi a Favara l'inizio dell'anno scolastico presso il secondo circolo didattico Falcone Borsellino di Via Olanda. A questi si devono aggiungere anche altri 200 palloncini che in contemporanea sono stati liberati da altrettanti bambini che frequentano il plesso Monsignor Giudice di Via Roma. Bambini, insegnanti, genitori e tutto il personale in servizio presso il secondo circolo diretto da Antonietta Monreale hanno accolto l'anno scolastico nel plesso di violanda con canti e balli. Durante la cerimonia si esibita anche la giovane cantante Chiara Rizzo, quest'ultima reduce dai successi ottenuti nella trasmissione televisiva Ti lascia una canzone, ed alunna della scuola Falcone Borsellino. Particolarmente emozionati erano i genitori dei bambini che frequentano le prime classi dell'istituto. Per niente è intimoriti invece i bambini che hanno partecipato alla festa con grande gioia. 600 palloncini colorati hanno salutato il nuovo anno scolastico. Sì, l'abbiamo fatto per manifestarla in maniera allegra, colorata, bella, anche perché colorati sono i nostri bambini. Noi abbiamo bambini cinesi, abbiamo un cherese, abbiamo marocchini, abbiamo bambini di tutti i colori e quindi è giusto che questo manifeste quello che noi abbiamo. Quindi a Roma c'è stato un lancio di palloncini colorati e purtroppo noi, come vedete, molte manifestazioni non riescono spesso bene per la struttura che abbiamo, o meglio, per le strutture che non abbiamo, solo per fello. Quindi comunque l'anno scolastico io mi auguro che sia l'insegna della speranza e soprattutto della fiducia, della gioia e dell'allegria. Allegria e gioia che portano solamente i bambini. Chissà se i palloncini che i bambini hanno liberato nel cielo portano con loro i sogni e le ambizioni di ognuno di essi ha e che con l'avvio della carriera scolastica cercheranno di raggiungerli. La strada è lunga e difficile, ma per il momento lasciamo i bambini ai loro giochi.